Radio Radicale, ci occupiamo della legge di bilancio, in particolare di una possibile iniziativa politica che potrebbe essere avviata nei confronti del governo e della stessa legge di bilancio, ovvero il ricorso per denunciare la non costituzionalità della legge di bilancio. Sarebbe il primo caso nella storia del diritto costituzionale italiano e della storia della Corte Costituzionale. Allora, su questo dobbiamo dire che c'è innanzitutto, alla vigilia del vario della legge di bilancio, un messaggio del Presidente della Repubblica. Ma com'è possibile percorrere questa strada? Che tipo di conseguenza potrebbe avere per il bilancio dello Stato? Determinerebbe l'annullamento della legge di bilancio? E che cosa succederebbe ai nostri conti pubblici? Interrogativi che restano aperti. Professor Brunetta. Intanto spieghiamo perché. La legge di bilancio dovrebbe avere come obiettivo l'equilibrio di bilancio. Cioè dovrebbe avere, lo spiego da economista, una strategia, dovrebbe inglobare una strategia di politica economica finalizzata a maggior crescita, più benessere, più occupazione, più crescita, più welfare per i cittadini. Il tutto però, come recita l'articolo 81 della Costituzione, dentro un percorso di equilibrio di bilancio. Quindi la strategia di politica economica del governo che si realizza ogni anno in autunno ha questa struttura costituzional-cultural-politica finalizzata proprio alla maggior crescita, al maggior benessere dei cittadini italiani, dentro però il vincolo dell'equilibrio di bilancio. Tutto questo riguarda l'Italia, certamente, ma riguarda, dalla nascita dell'euro in maniera specifica, anche i nostri impegni europei. Cioè riguarda il trattato di Maastricht, riguarda i relativi strumenti attuatori di Maastricht, che sono il fiscal compact, il six pack e il two pack, che non sono trattati, ma che sono regolamenti o direttive finalizzati a realizzare Maastricht, che è un trattato internazionale. E se Maastricht è un trattato internazionale, come sappiamo, i trattati internazionali hanno un loro valore fondante per i nostri comportamenti interni, la nostra politica economica. Cosa succede? Succede che l'Italia, quest'anno, per la prima volta da parte del suo governo, esplicitamente si dichiara contro le regole europee, di fatto contro Maastricht, di fatto contro Fiscal Compact, six pack e two pack, che hanno una loro valenza, chiamiamola così, sovranazionale dal punto di vista della coerenza della legislazione nazionale. Perché questo? Perché per la prima volta il nostro Paese si è detto contrario al rispetto delle regole europee per quanto riguarda il deficit e per quanto riguarda il debito. Le regole europee, semplificando un po', dicono che il deficit deve diminuire fino a zero, o close to balance, cioè fino all'equilibrio di bilancio, cioè vicino a zero, e che il debito deve diminuire fino al rapporto 60% debito PIL, Maastricht, ancorché questo obiettivo diluito in vent'anni. Ma in ogni caso, la regola del debito e la regola del deficit, sempre semplificando un po', prevedono strategie di politica economica implicanti la discesa del rapporto debito PIL e la discesa del rapporto deficit PIL, come due facce della stessa medaglia. Se un governo come quello italiano esplicitamente dice, sapete che vi dico Europa, invece che andare in discesa, aumentiamo il rapporto debito PIL e aumentiamo il rapporto deficit PIL, appunto come due facce della stessa medaglia, un governo, qualsiasi governo, che si metta in questa condizione, partendo tra l'altro da un debitone enorme, 131-132% del PIL, quindi fuori dai parametri di Maastricht, e da un deficit altrettanto alto, vicino al limite previsto da Maastricht, che è il 3%, ne deriva che il governo si mette non solo contro le regole europee, ma di fatto si mette anche contro l'articolo 81 della Costituzione, che prevede l'equilibrio di bilancio. E come dire, parafrasando i nostri due eroi, dell'equilibrio di bilancio, me ne frego. Ecco, che conseguenze avrebbe un ricorso del genere? E soprattutto che tempi avrebbe? Allora, noi sappiamo che non è facile fare un ricorso alla Corte Costituzionale, ci deve essere in via incidentale un cittadino che in una causa, in un processo civile, che si sente leso e solleva la questione. Quanto tempo ci vuole? E poi che effetto avrebbe? Bloccherebbe quella norma? Bloccherebbe l'intera legge di bilancio? Che cosa succederebbe? Allora, giustamente il legislatore, in ogni caso, è giusto che i ricorsi alla Corte Costituzionale abbiano una sorta di filtro, perché la Corte Costituzionale non può essere la buca delle lettere e delle proteste della comunità nazionale. Quindi il ricorso incidentale da parte del cittadino sarebbe un percorso legittimo, ovviamente, ma lungo e arduo. Quello che invece potrebbe avvenire, poi ne dico anche un'altra, in maniera più immediata, è il ricorso da parte di una regione, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione, che si senta lesa da questa strategia di politica economica del governo, e cioè non rigorosa, non di equilibrio, non costituzionale, che quindi possa ricorrere. E questo sarebbe ovviamente assolutamente possibile e avrebbe anche un forte significato politico, ma ne dico anche un'altra, potrebbe anche il Presidente della Repubblica, nella sua totale autonomia, non firmare la legge di bilancio. Naturalmente questo come estrema razio, perché anche questa è una possibilità. non dimentichiamo che il Presidente della Repubblica ha certamente firmato la legge di bilancio in entrata in Parlamento, però, pochi se ne ricordano, l'ha accompagnata con una lettera. Dove venivano citati l'articolo 81, 97... 81, 97 e 97. E la lettera non è acqua fresca, perché il Presidente della Repubblica, che pure nella prassi ha questa possibilità, ha voluto sottolineare, ha voluto, e io concordo pienamente, da un lato non interrompere il processo legislativo, che tra l'altro, ricordo, non è solo un processo legislativo italiano, ma è un processo legislativo inserito in un sistema europeo, perché in autunno, entro il 15 ottobre, viene mandata la sintesi, viene mandata la tabella, e poi, e poi, e poi. Non è solo per l'Italia, è per tutti i paesi aderenti all'Unione Europea, con particolari vincoli poi per i paesi dell'Eurozona. Per cui il processo della legge di bilancio non è solo un processo endogeno che riguarda il nostro paese, come una qualsiasi altra legge, ma è un processo endogeno che afferisce però a una regolazione sistemica europea cui tutti devono obbedire. E se qualcuno fa spallucce e dice sapete che vi dico, me ne frego, e mando all'aria le regole europee, beh, questo non solo non è possibile, non solo si prenderà gli stradi degli altri paesi europei, per cui noi facciamo da freerider, da battitori liberi, però implica endogenamente, ma anche esogenamente, una sorta di incostituzionalità. Cioè l'incostituzionalità non solo è relativa, e io mi esprimo da economista, non da giurista, non da costituzionalista, ma implica un'incostituzionalità endogena, articolo 81, e con poi i richiami che la nostra Costituzione fa all'Europa, ma anche esogena, nel senso che la regolazione europea, attraverso i trattati, attraverso il Fiscal Compact, il Six Pack e il Two Pack, acquisisce una valenza sovraordinata rispetto alla regolazione italica. Ne deriva la preoccupazione del Presidente della Repubblica, che si è espressa in entrata con la lettera, e devo dire, ineccepibile, perché era l'inizio di una procedura e di un processo che poteva anche trovare delle correzioni, perché l'Europa ha chiesto all'Italia delle correzioni, se l'Italia avesse fatto le correzioni, tutto si sarebbe, come dire, collocato in un alveo di legittimità, di correttezza e di compatibilità. Visto che però l'Italia ha sbattuto la porta in faccia alla Unione Europea, allora l'Italia non solo ha sbattuto la porta in faccia all'Unione Europea, ma di fatto ha sbattuto la porta in faccia anche al Presidente della Repubblica, alla sua lettera, che accompagnava la firma del passaggio in Parlamento del disegno di legge di bilancio. Allora, cerchiamo di essere ottimisti. Allora, se una regione vuole fare questo ricorso, avrà, diciamo, un tempo più ridotto rispetto a quello che accadrebbe in via incidentale da un cittadino durante una lite in tribunale. Allora, lei innanzitutto, su quale norma prevede possa nascere lo scontro? Su quella blocca vitalizi che pone a danno delle regioni se non applicheranno lo stop ai vitalizi, il blocco dei fondi europei, la riduzione dei trasferimenti dello Stato, che viene definita da molti come, da molti osservatori, come una norma ricatto. E poi riesce a immaginare un Presidente di una regione, anche di centro-destra, come può essere Toti, che è alleato con la Lega, che avvia un'iniziativa di questo genere. Riesce a immaginare una regione che si prende questo tipo di responsabilità. Ma, vede, se scatta la procedura di infrazione, e lo sapremo il 21 di novembre, se sì o no, e se le modalità le sapremo il 21 di gennaio, se sì il 21 di novembre, quali modalità, deficit, debito, sanzione, blocco dei fondi europei, e così via, quindi tutto avverrà nell'arco di pochi giorni, per sapere se sì o se no, e le modalità entro un paio di mesi. E a essere penalizzati saranno tutti i cittadini italiani, ma a essere penalizzati saranno anche le regioni italiane, come istituzioni. Basti pensare che se si bloccano i fondi europei, si bloccano i fondi europei per le regioni. Per cui, elementi su cui eccepire la lesione di un diritto da parte delle leggi di bilancio sono innumerevoli. Basti solo pensare che su 22-23 miliardi in deficit, la stragrande maggioranza, sono di spesa corrente legate al reddito di cittadinanza e a quota 100, e se pensiamo, per esempio, alla distribuzione iniqua di un eventuale reddito di cittadinanza sulla base del territorio italiano, con sperequazioni tra nord e sud, vediamo, come dire, fattori di lesione di diritti o di potenziali diritti assolutamente numerosi. Però, primo di tutti, la procedura di infrazione. La procedura di infrazione, e quindi di fatto il commissariamento del nostro Paese, lede, ovviamente, i diritti di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni italiane e quindi delle regioni. Quindi, se una regione eccepisse l'incostituzionalità, io credo che ci sarebbero, come dire, buone, buonissime possibilità di intervento da parte della Corte Costituzionale. E devo dire, non voglio tirare il Presidente della Repubblica per la giacca, ma andiamoci tutti a rileggere la lettera del Presidente Mattarella che ha accompagnato la sua firma legittima, doverosa, immediata, al disegno di legge di bilancio, quando questa è passata, ovviamente per le sue mani prima di arrivare in Parlamento. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Renato Brunetta per averci parlato un po' dei termini di questo inedito del diritto italiano, la procedura di costituzionalità della legge di bilancio. Grazie.